La CGL chiede la riapertura del tavolo di crisi, la richiesta al governatore frattura, imprese, lavoratori e indotto sono allo stremo, denuncia il sindacato che non condivide il progetto dell'autostrada del Molise. Vicenda Castellina-Colella attacca la regione, dissequestrata una delle sorgenti che servono l'azienda e il proprietario Funibondo, siamo stati fermi troppo, chiederemo conto all'istituzione regionale, dice. Raccolta del pomodoro, buone le prospettive dopo i problemi dello scorso anno, si prevede una stagione positiva e gli imprenditori guardano al futuro con ottimismo sperando in una ripresa per respirare e ammortizzare le spese. Eventi estivi, il Molise si anima a tanti, gli appuntamenti nei piccoli comuni, Palio delle Contrade a Ripa Limosani, Festival della Canzone Dialettale a Gamba Tesa ma anche Mostre Sagre, a Dalfedena, nel vicino Abruzzo, le foto di Merili. Calcio di Serie D si parte il 7 settembre, pubblicati i calendari per l'esordio Agnone e Termoli in casa contro San Benedettese e Chieti, il Campobasso giocherà Iesi. Benvenuti al nostro Tg delle 14, in apertura ci occupiamo dell'allarme lanciato dalla filea CGL che chiede al Presidente della Regione Frattura di riattivare con urgenza il tavolo di crisi del settore delle costruzioni, le imprese, i lavoratori e l'indotto sono ormai allo stremo denuncia il sindacato che non condivide il progetto dell'autostrada del Molise, ai particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Il Presidente della Regione Paolo Frattura continua ad annunciare la realizzazione dell'autostrada del Molise, ritenendo che essa possa risollevare le sorti dell'economia molisana, ormai al collasso. Non la pensa invece così la filea CGL che attacca frontalmente il Governatore, invitandola a mettere da parte i proclami e gli annunci e a rendersi finalmente conto della gravissima crisi in cui è piombato il settore delle costruzioni. E a giustificare la sua presa di posizione, il Segretario regionale della filea mostra anche i dati che riguardano il settore dell'edilizia. Siamo passati dai quasi 10.000 occupati del 2008 a poco più di 5.000 del 2013, con una perdita di quasi il 50% degli occupati, sottolinea. Nel primo trimestre del 2014 la situazione è ulteriormente peggiorata, determinando uno stato di piena emergenza occupazionale e sociale. Gli occupati sono stati solo 2.642 a fronte dei 3.163 del primo trimestre del 2013, dato questo già di per sé drammatico. Ed allora, di fronte ad un quadro così grave, il sindacato chiede al Presidente Frattura come primo passo la riattivazione urgente del tavolo della crisi del settore delle costruzioni e poi sollecita l'ammodernamento del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente per creare nuovi posti di lavoro. A riguardo la filea, già pronto il pacchetto degli interventi, la ricostruzione delle aree terremotate, dove 884 famiglie aspettano di vedere ricostruite le loro case ed 800 che vivono ancora nei prefabbricati e poi, ricorda il sindacato, ci sono circa 346 milioni di euro da spendere per il risanamento idrogeologico, per la messa in sicurezza della viabilità regionale per quella delle scuole. Tra poco le scuole riapriranno, ricorda Di Sisto, e nessun intervento è partito. La Regione, anche in questo caso, smentisce se stessa e comunica che i milioni a disposizione da 28 sono passati a poco meno di 12, come da Delibera Cipe dello scorso 30 giugno, e i lavori dovrebbero essere appaltati entro la fine dell'anno, precisa il sindacato. Ed allora, benvenga anche l'autostrada per la quale va anche detto che è stata ridimensionata nel tracciato e nei finanziamenti, sottolinea la filea, ma il governatore eviti di far passare il messaggio secondo il quale la Termoli Boiano sia la soluzione di tutti i problemi, anzi, conclude. Siamo convinti che non porterebbe sviluppo al Molise, ma contribuirebbe ad isolare ulteriormente le aree interne. Ammontano a 2 milioni e 700 mila euro le risorse assegnate al Molise per gli ammortizzatori sociali, ma intanto la Regione non ha ancora ottenuto dal Governo centrale il riconoscimento dell'area di crisi e all'interno del Partito Democratico non mancano alcune polemiche. Sentiamo. Sono oltre 1.200 i posti di lavoro a rischio nel Molise. GAM, ITR e indotto del settore metalmeccanico tra Boiano, Isernia e Venafro. Cifre da capogiro, riportate anche nel rapporto Svimez 2013 sul Mezzogiorno. Un quadro allarmante e denunciato dai sindacati che hanno chiesto con forza l'intervento della Regione per arginare il fenomeno divenuto di vera emergenza. Intanto proprio in relazione alla gravissima crisi produttiva e occupazionale che sta investendo il Molise, nella sede dell'assessorato regionale a lavoro si è svolta la riunione del gruppo ristretto della Commissione tripartita, nel corso della quale è stato preso atto del riparto dei fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga che attribuisce al Molise 2 milioni e 700 mila euro per il 2014. L'assessore Petraroia nel sottolineare la drammaticità del momento lancia l'appello affinché tutte le forze sociali imprenditoriali, le istituzioni e la delegazione parlamentare insieme facciano fronte comune nei confronti del Governo centrale chiamato a dare risposte rapide attraverso l'inserimento del Molise tra le aree a rischio. L'intesa sul lavoro e sul riconoscimento dell'area di crisi rappresenta il presupposto per ottenere il risultato, ha dichiarato. Intanto c'è da registrare la dura presa di posizione di Nicola Palombo, esponente del PD che critica l'atteggiamento assunto dalla classe dirigente molisana ma anche dai rappresentanti del mondo economico e dell'associazionismo che ha denunciato non si uniscono in una battaglia condivisa con il Governo ma preferiscono spaccarsi e dividersi polemizzando su tutto. Ha aggiunto è inutile dividersi su un'opportunità che può risollevare le sorti dell'economia molisana e può consentire a 2000 lavoratori di avere un futuro grazie ai 200 milioni di finanziamento. Si cambia atteggiamento al monito dell'esponente del PD per raggiungere l'obiettivo per il bene del territorio, delle imprese e dei lavoratori. La cronaca adesso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Termoli, un uomo di 46 anni di Bonifro che ieri sera si è schiantato con la sua moto contro un'auto in sosta all'ingresso del paese. Nell'impatto a terra il motociclista che indossava il casco ha riportato un politrauma e diverse fratture ed è stato trasportato in gravi condizioni da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Santimoteo. La prognosi resta riservata. I carabinieri di Isernia in azione contro l'abusivismo edilizio e per tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro. A Filignano ha denunciato un uomo di 40 anni e una donna di 60 perché stavano per realizzare delle strutture in cemento armato senza la concessione. Stessa sorte per un 55enne di Santagapito. A Miranda in un cantiere edile i carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato così come un altro a Isernia per un analogo motivo. Tutte le strutture abusive sono state sequestrate. Infine a macchia di Isernia quattro persone sono state denunciate in quanto in un cantiere non utilizzavano le protezioni previste e comunque fornite dalla ditta. È stata dissequestrata una delle sorgenti che servono la Castellina ma il proprietario dell'azienda di imbottigliamento di acque e minerali di Castelpizzuto Camillo Colella è furibondo. Siamo stati fermi per troppo tempo dice chiederemo i danni alla regione. Il servizio di Sergio di Vincenzo. La storia delle sorgenti della Castellina è davvero complessa. Probabilmente non basterebbe un libro per raccontarla tutta e per spiegare le ragioni delle due parti in causa. Da un lato c'è il comune di Castelpizzuto, dall'altro c'è l'azienda che imbottiglia acque e minerali. La battaglia legale va avanti da un pezzo ma più aumentano le carte bollate più diventa complicato uscire da questo labirinto. L'ultimo atto di questa vicenda è rappresentato dal dissequestro di una sorgente ma la rimozione dei sigilli non fa di certo esultare il padron della Castellina Camillo Colella. La sua azienda ha detto è stata ferma per otto mesi. Il danno economico a suo avviso è stato enorme per questo è intenzionato a chiedere un risarcimento. Un'azienda avviata, un'azienda che camminava con un indotto e con un mercato importante, con dipendenti e con tanti altre persone, trasporti, fornitori, clienti e un avviamento su tutti i negozi della regione ma anche delle regioni limitrofe. Quindi abbiamo avuto un danno immenso per cui questo danno sarà chiesto alla regione molise. L'imprenditore Sernino si è detto amareggiato per il mancato intervento della regione. Il presidente della regione molise Paolo Frattura, neoeletto, è vergognoso che non ha smosso un dito, non ha approfondito il problema, non se ne è curato oppure se ne è curato lasciando correre perché probabilmente era molto preso. Però visto che i risultati molisani stanno andando a queste condizioni, la Solagrital è morta, è morta l'ITR, è morta pure lo zuccherificio, è morta la Castellina. A questo punto sarà dura se non impossibile ripartire, è il parere di Colella. Qua ci vogliono investimenti per rilanciare e per ripartire. Se ricaccia Paolo Frattura di tasca proprio con la regione, investe e riparte, se no non riparte. L'azienda è morta e quindi è finita per tutti quanti. Dopo i problemi dello scorso anno si prevede una stagione positiva per la raccolta del pomodoro in Basso Molise. Una nostra truppa ha incontrato un giovane imprenditore agricolo in una contrada di Porto Cannone per fare il punto sulla campagna. Fabrizio Occhionero. Tra le campagne del Basso Molise è iniziato il periodo della raccolta del pomodoro, coltivazione sulla quale alcune aziende agricole hanno deciso di investire per fare reddito e fronteggiare anche la concorrenza straniera sui canali di vendita. Questo campo si trova incontrato a Sant'Angelo tra la Statale 87 e Porto Cannone ed è pronto per la raccolta secondo i metodi stabiliti per l'agricoltura biologica. All'inizio c'è stato il problema delle forti piogge e delle temperature molto basse che hanno impedito alla pianta di vegetare subito. Successivamente, fortunatamente, le temperature si sono rialzate e il pomodoro è ripartito, anche con le numerose lavorazioni del terreno. Dopo i problemi del 2013 le prospettive di quest'anno sono positive. Quest'anno si prevede, almeno per adesso, un'ottima annata. Le temperature sono buone e non ci sono stati attacchi della famosa nottua gialla, anche grazie a un virus che abbiamo usato preventivamente che ha bloccato le larve nella crescita. Tutto biologico? Tutto biologico, naturalmente. I pomodori tondi o lunghi vengono distribuiti nei conservifici e sui mercati di altre regioni. In parte restano in zona e se per il pomodoro l'annata sembra favorevole, lo stesso discorso non vale per la frutta. Quest'anno c'è stato il grosso problema della frutta. Il 90% della frutta italiana è rimasta invenduta, un poco a causa delle temperature, della pioggia e delle forti importazioni che arrivano dalla Spagna con prezzi bassissimi. Cosa si può fare? Noi abbiamo avuto tante avversità. Noi agricoltori di più non possiamo fare. L'unica cosa che si può fare è che lo Stato deve intervenire per calmare un poco queste grosse importazioni. L'amministrazione comunale di Santa Maria del Molise ha replicato ai promotori della conferenza stampa convocata per protestare contro lo spostamento del monumento ai caduti di Sant'Angelo in grotte. I 190 mila euro stanziati, hanno detto il sindaco Erminia Mignelli e il vice sindaco Michele Pasqua Rosa, erano vincolati e dunque potevano essere usati solo per il rifacimento della piazza e tra l'altro daranno un minimo di ossigeno all'economia locale. Inoltre il monumento al termine dei lavori sarà ricollocato nella sua posizione originaria, quella del 1924. I due amministratori hanno inoltre precisato che lo stesso monumento non è sottoposto a vincoli, ne vi sono rischi di trovare reperti archeologici nel sottosuolo. I resti del Palazzo Baronale si trovano infatti ad almeno 4 metri dalla superficie, mentre l'intervento prevede solo il rifacimento della pavimentazione. La vera spending review, hanno concluso Mignelli e Pasqua Rosa, non si attua cancellando questi lavori, bensì togliendo i vitalizi e parlamentari non più in carica. Sono in tanti in vacanza in questi giorni e in diversi sceglieranno anche di partire dopo Ferragosto. L'Associazione dei consumatori, la Doc Molise, ha stilato un vademecum per richiedere il risarcimento di eventuali danni durante le ferie. Sentiamo. Non sono purtroppo rari i casi di vacanza non perfetta, vacanza in cui gli inconvenienti e i danni subiti non mancano. L'Associazione dei consumatori, ad hoc Molise, ha diramato dei consigli per richiedere eventuali risarcimento. Prima di acquistare, fa sapere, il cliente ha il diritto di ricevere copia scritta del contratto offerto con indicate le generalità del venditore, caratteristiche del viaggio, prezzo e quanto ad esso legato anche per la sua revisione, assicurazioni. Eventuali modifiche al prezzo vanno applicate solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche e tali variazioni possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza, ne possono superare il 10% del costo pattuito in origine. Per modificare una o più parti del contratto, continua l'ad hoc, il venditore deve avvisare subito il consumatore, il quale a sua volta deve comunicare cosa decide entro due giorni dall'avviso. In caso di disservizio o disagi, come spese effettuate e non dovute, il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito, contestando entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, con raccomandate e allegata documentazione utile al tour per etoro agenzia. In caso di risposta negativa, l'altro passo è il giudice di pace. Per quanto riguarda poi perdita, smarrimento o distruzione di bagagli, spiega l'ad hoc, bisogna presentare denunce all'ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto di arrivo. Se la valigia non viene riconsegnata entro 21 giorni, inoltrare richiesta di risarcimento danni all'ufficio relazioni clientela e o assistenza bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato. Se riconsegnata in ritardo, inviare negli stessi tempi richiesta di risarcimento spese sostenute. Anche se il bagaglio è danneggiato, va fatta domanda. Per quanto riguarda l'entità del risarcimento, conclude l'ad hoc, Molise va fatta una distinzione tra compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, la maggior parte e quelle che non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto a un risarcimento di 1.164 euro per ogni bagaglio registrato in relazione al danno subito. Rita Bernardini, segretaria nazionale dei radicali, ha cessato lo sciopero della fame dopo che il ministro Orlando ha accettato la proposta di mettere online i dati delle capienze regolamentari delle carceri. Bernardini, citando i dati, ha evidenziato come al 31 luglio di quest'anno il tasso di sovraffollamento nei penitenziari italiani è del 119,4% e il Molise è la regione che registra quello più alto, il 151%. Adesso apriamo la finestra degli appuntamenti estivi, andiamo a Gambatesa per la venticinquesima edizione del festival della canzone dialettale molisana, una due giorni intensa per un appuntamento classico dell'estate nella nostra regione. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Gruppi e interpreti arrivati da tutto il Molise in rappresentanza di paesi di entrambe le province. Gambatesa per due giorni, ieri e oggi, capitale della canzone dialettale molisana. Nelle note, nei versi, nelle parole di Braningara, ben 15 gli interpreti iscritti, emergono le tradizioni e la cultura della nostra terra. Questo e tanto altro è da 25 edizioni il festival organizzato nel paese del Fortore, un appuntamento ormai classico, pietra miliare della tradizione musicale locale, come hanno spiegato gli organizzatori. Questo è il terzo anno che abbiamo ripreso il festival e devo dire che la risposta è stata abbastanza positiva, oltre che coinvolgente, da parte sia degli artisti ma anche dei turisti che, sto notando, vengono a visitare il paese soprattutto per questa manifestazione. Addirittura mi è arrivata un'email qualche giorno fa di un padre di famiglia che cedeva dei posti a sedere per i propri bimbi, perché sentivano parlare di questo festival e cedevano al papà. Quando andiamo a vedere il festival è il Gambatesa, quindi questo vuol dire che la risonanza è abbastanza grande, per cui vengono molti turisti ultimamente a visitarci. Il dialetto è ancora molto usato nei paesi molisani e patrimonio di memoria, tradizioni e non può, ne deve andare perduto. Anche questo è uno degli obiettivi della manifestazione, nella quale comunque partecipano in tanti i giovani e a 20 anni dalla scomparsa non può essere dimenticato colui che ha contribuito in primis alle recuperi e alla diffusione del folklore e della musica dialettale, Antonio Socci. Mio padre era nato e è nato a Gambatesa e ci è vissuto praticamente fino a un po' della sua vita, poi è venuto a Campasso e ha fondato la Polifonica Monforte, il gruppo volcolistico. Questo ti fa capire che comunque la musica dei Gambatesani sta veramente nel sangue. Loro l'hanno sempre avuto, hanno sempre avuto una banda famosissima e bravissima. Gambatesa è una delle città del Molise e della musica. La donna intervistata era Rosa Socci a Gambatesa, dunque questa sera alle 21 la finale del festival della canzone dialettale molisana, sempre alle 21 ma a Montorio nei Frentani, diciottesima edizione di Noi Artisti di questa terra con spettacoli di musica, ballo e canto, ospiti d'onore all'ambasciatore italiano in Francia e Vittorio Sgarbi che illustrerà l'opera pittorica della chiesa madre del paese. Verranno consegnati anche dei riconoscimenti, tra cui uno all'arcivescovo Bregantini per essersi distinto in ambito culturale. A Macchiavalfortore invece dalle 20, tredicesima sagra dei Cavatelli in piazza San Nicola, allietata da spettacolo musicale. Si è svolto alle Quercigliore a Ripa Limosani la 211 edizione del Palio delle Contrade, la corsa a cavallo in onore della Madonna della Neve. Vediamo com'è andata in questo servizio. Una tradizione antica che si ripete da 211 anni, eleganza, potenza, adrenalina, i lucidi muscoli dei cavalli in gara per il Palio delle Contrade alle Quercigliore di Ripa Limosani, un palio antico di cui si hanno testimonianze scritte del 1807 e addirittura del 1765. Una corsa in onore della Madonna della Neve che rientra nelle manifestazioni organizzate dal Comitato Feste che porta il nome della Vergine venerata dai ripesi. Due batterie da sei cavalli e cavalieri, due fasi eliminatorie, quindi la fase finale con i primi tre classificati di ciascuna batteria di nuovo in sei a fronteggiarsi lungo il tratturo, lungo il chilometro e due che porta la chiesetta della Madonna della Neve. Ha vinto la contrada dei villaggi. Il rumore degli zoccoli del cavallo vincitore rimbomba proprio nella chiesetta con lui il cavaliere, come da tradizione l'inchino alla Vergine, l'onore del palio a chi ha vinto. Il Comitato è tutti giovani, una media di 35 anni, diciamo il più anziano tra virgolette, però c'è la partecipazione di tutti, della popolazione, chiunque viene a dare una mano, è tutto volontariato. Poi c'è anche una grande mano da parte del Comune e da parte della Proloco. Una manifestazione che richiama persone lungo il tratturo alle Quercigliole, un evento che rappresenta l'orgoglio di una comunità. L'anno prossimo avremo, siamo i cinque anni, quindi c'è la processione della Madonna dell'Assunta e porteremo in processione tutti i santi che sono presenti sul territorio di Ripari Mosani. Quindi maggiore impegno e quindi dobbiamo chiedere uno sforzo in più a tutti i nostri concittadini per il prossimo anno, magari avviarsi già dall'inverno per poter programmare e quindi farsi trovare pronti per questa nuova avventura. Si intitola Bagnoli Book con l'hashtag iniziale ed è una sorta di film documentario realizzato dai ragazzi che curano il gruppo social del Paese, attivo da cinque anni su Facebook. Nel montaggio, interviste, riflessioni e come hanno spiegato i giovani autori ha anche tanta allegria. La proiezione è questa sera Bagnoli del Trigno in piazza Umberto I dalle 21. E ora andiamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per la precisione ad Alfedena dove è stata inaugurata una mostra fotografica su Merlin Monroe. Gli scatti sono quelli di Bert Stern realizzati alcuni giorni prima della sua morte. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Alfedena non è soltanto la porta del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È un centro turistico dove spesso vengono proposti eventi culturali e artistici di assoluto rilievo, come questa mostra fotografica dedicata a Merlin Monroe. Nella sala espositiva di Largo Don Filippo Brunetti saltano subito all'occhio soprattutto gli scatti di Bert Stern, protagonista insieme all'attrice hollywoodiana della celebre Last Sitting. Pochi giorni prima della morte della star si rinchiusero per tre giorni in uno studio fotografico e produssero la bellezza di oltre 2500 scatti. Oggi queste foto si propongono di andare oltre quel quadro di banalità in notizie e fantasiose dipinto intorno a Merlin Monroe per mettere in evidenza il suo carattere fragile e sfuggente. La mostra è stata curata da Reinhard Schulz, proprietario della galleria Bilderberg di Berlino. Nostro image, perception di Merlin è solo un riflesso di pubblicità ma il personaggio di Merlin è difficilissimo. Lei è una donna eccezionale di questo periodo perché lei sta in una fabbrica in 45 e un anno, un prossimo anno sta in Hollywood. Una curiosità su Schulz grazie all'amicizia con il fotografo italo-americano Tony Vaccaro da 19 anni alla residenza a Bonefro in provincia di Campobasso. La mostra organizzata dalla Proloco di Alfedena anche quest'anno ha fatto centro riscuotendo subito grande interesse. Abbiamo sospeso per un attimo la tradizione delle mostre dei fotografi abruzzesi e molisani per allargarci invece a mostre di importanza e di risonanza internazionale. Siccome l'anno scorso uno dei fotografi ufficiali, Bert Stern, è morto, quindi c'è molta attenzione attorno alla figura di Merlin Monroe. Molta cura e attenzione è stata prestata anche agli allestimenti. L'importanza dell'allestimento è determinante, è un grosso aiuto l'abbiamo avuto chiaramente da un architetto, l'architetto Massimo Sterpetti di Sernia, che poi è anche originario di Alfedena. Con lui abbiamo un po' trovato la soluzione per rimettere su questa sala e renderla quanto più disponibile a una mostra fotografica. Per visitare la mostra c'è tempo fino al 30 agosto, ad eccezione dei lunedì, è aperta ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20. Si intitola Petra, Suggestioni della materia, la mostra dello scultore Antonio Di Maria, allestita alla Galleria Officina Solare di Termoli. Partendo dalla Pietra Nuda, l'esperto artista di Riccia ha realizzato delle opere significative. Sentiamo Fabrizio Eccionero. Suggestioni della materia, lungo un percorso ideale, dentro il senso della vita, la famiglia, l'amore, il credo religioso e le tradizioni che scandiscono la storia di una comunità. L'impegno dello scultore Antonio Di Maria dà vita a una nuda pietra, prendola un universo di emozioni. Ho voluto realizzare delle opere in pietra, soprattutto in pietra nostra, locale, pietra riccesa in particolar modo, la cosiddetta pietra favara e diciamo che cerco di sfruttare un pochettino quello che la pietra mi suggerisce. Quindi è come se la pietra mi parlasse e io cerco di raccogliere questo messaggio e poi plasmarlo, scolpirlo e quindi renderlo così vivo. Sono lavori, ha spiegato il critico d'arte e gioia cativa, che sprigionano amore, un calore che li avvolge come un'area che si arricchiscono nella loro stessa forma. La mostra che comprende singolari opere, anche il legno in mosaico e polistirolo in mosaico, è stata allestita alla Galleria Officina Solare, diretta da Nino Barone. Tanti lavori frutto di esperienza e passione. Io vado alla ricerca delle pietre che comunque mi legano un pochettino anche a quello che è la nostra cultura molisana, la cultura che ci hanno tramandato un pochettino le generazioni. Ad esempio ho realizzato un trittico di statuine che rappresentano la maentonata, la famosa maentonata di Campadesa. Quindi vediamo il suonatore di Bufu, il suonatore di Organetto e il cantoro che è colui che esegue la maentonata, quindi la stornellata fatta al momento. Tra le opere il ricordo della maternità rurale di Antonio Di Maria, donata dall'Università Papa Francesco in occasione della sua storica visita in Molise. Sculture capaci di spigionare emozioni come quelle di una mamma che culla il suo bambino. Si chiama Borgo in festa, la manifestazione in programma per questa sera a partire dalle 20.30 a Petrella Tifernina. L'iniziativa prevede la degustazione dei piatti tradizionali con un percorso attraverso il Borgo. Questa era l'ultima notizia del Tg delle 14, dopo la sigla le previsioni meteo, poi come sempre la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo alle 15 per gli aggiornamenti. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.